Nel secondo trimestre del 2020 il PIL dell'area dell'euro ha subito un calo dell'11,8% sul periodo precedente. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. La BCE stima per il terzo trimestre un aumento dell'8,4% del PIL. Gli incrementi dei tassi di contagio da coronavirus nei mesi estivi però rappresentano un fattore sfavorevole per le prospettive a breve termine. Per la BCE, guardando al futuro, un'ulteriore e durevole ripresa continua a dipendere in larga misura dall'evoluzione della pandemia. Stabile l'occupazione nell'Unione Europea, secondo i dati Eurostat, confrontando il primo trimestre del 2020 con il quarto trimestre del 2019. La quota di occupati è rimasta allo stesso livello, ovvero al 73,3%. In diminuzione il tasso di occupazione dei giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, che passa dal 33,6% del quarto trimestre 2019 al 33,3% del primo trimestre 2020. Negli ultimi 20 anni il tasso di occupazione ha registrato una tendenza al rialzo. È stato superiore di 8,1% nel primo trimestre del 2020 rispetto al primo trimestre del 2000, quando era al 65,2%. Ad agosto frenano le esportazioni extraeuropee, mentre fanno registrare un netto aumento le importazioni. Lo rileva l'Istat. Ad agosto 2020 l'Istituto di Statistica stima per intescambio commerciale con i paesi extra Unione Europea una lieve diminuzione per le esportazioni, meno 0,3%, e un forte aumento per le importazioni, più 5,1%. Nel dettaglio è in calo l'export di energia, beni di consumo non durevoli e beni strumentali, in aumento quelli dei beni di consumo durevoli e beni intermedi. Il commercio è nelle sabbie mobili. A sette mesi dall'inizio del lockdown i consumi languono e della ripresa economica non vi è traccia. A certificare lo stallo del settore sono i dati di Confimprese che a Milano ha riunito l'Assemblea Generale. Abbiamo sentito il Presidente dell'Associazione Mario Resca. Siamo in grave difficoltà. Queste sono aziende che hanno il contatto diretto con i consumatori. i consumatori sono preoccupati, spaventati. Abbiamo avuto tre mesi di lockdown, quindi blocco totale delle vendite. Siamo in una fase, l'agosto è stato leggermente migliore per alcuni settori, ma i primi dati di settembre sono preoccupanti, i consumi sono in calo. Cosa chiediamo al Governo? Grande capacità di prendere decisioni che non siano solo quelle che sono sussidi a breve periodo, ma aiuto alle imprese con investimenti strutturali, riforma della burocrazia e della pubblica amministrazione, riforma del sistema giudiziario e investimenti sulle grandi opere per creare un volano che consenta all'Europa di darci quei 209 miliardi di euro che non stiamo vedendo e che sono frutto di una capacità del nostro Paese di fare investimenti coraggiosi.